Buongiorno a tutti. Questa è la parte finale del mini torneo di Ping Pong Special di Kappa. Usiamo le apprezzature di tennis tavolo, ma non per imparare tennis tavolo, per fare altro. Creatività, dinamismo, resistenza veloce, insomma, può, vento permettendo, cambio di mano a ogni tiro, cercando di tenere sempre il corpo all'esterno rispetto a un braccio. Ora vi rovescio sempre il corpo all'esterno, cambio di mano. Il rovescio sempre il corpo all'esterno. Invece. 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 Buongiorno a tutti i nostri spettatori. Invece.